Qui, in questa palestrina, dalla chiesa dell'ex osservanza, ci sono anche le macchine per gli esercizi delle braccia. Questo è per i tricipiti. Cercare di non farlo. Muovendo solo dal rondo in poi. In questa palestrina, la parte interiore del braccio, il elemento ferro superiore, praticamente lavorano i tricipiti. Anche qui. Con 4-48 kg pura leva, ci fa già una buona ginnastica senza sforzare troppo il fisico. Meglio fare a parer vino un po' più veloce e durare un po' di più nel seno con meno peso per tonificare meglio i muscoli che fare degli sforzi troppo esagerati. Grazie. 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 Più che altro fortunato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.